Non so che è andato qua. 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 Prossimo incontro al quadrato numero 5, l'incontro 5 e 07. Si preparino Saggiorno Luigi, corazza blu, vestito Domenico, corazza rossa. A seguire l'incontro 6 e 09 si preparino Di Mauro, un vero, corazza blu, schiavone Vicenzo, corazza rossa. Al campo 7, Tairai Fabiol, a campo 7, corazza rossa. Tairai Fabiol.sport comuni medicei a campo 7. Grazie. Grazie. Tairai Fabiol.sport comuni medicei a campo 7. Punto sport comuni medicei a campo 7. che è andato qua. Tairai Fabiol.sport comuni medicei a campo 7. Tairai Fabiol.sport comuni medicei a campo 7. A campo 8 si presentino Etti Diego, corazza blu, Montelli, Davide, corazza rossa. A seguire al campo 8 si presentino Baretta Lennis, corazza blu, Bagneri Gianluca, corazza rossa. A me non mi davano. Che volevi fare? Che volevi fare? Perché lui non mi davvero. E noi... Ah! Controlla poverà che sono più grandi! Che ha qui! Perché a Michi è un bravo! Al campo 7 si presentino Napolitano Giovanni, corazza blu, Arturo Pallozzi, corazza rossa. A seguire al campo 7 si preparino Matera Vito, Niumarzi Almesagne, corazza blu, Costantino Kevin Pio, seguato Draghi Postano, corazza rossa. Vai Luca! 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 Buongiorno! 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 lassenero! hermenade occhio commonality! a Homeleno все di andato 5 km! Per alguna cosa? ogenic! ちら è bellissimo! è molto spettacolare vai ballate tutti ballate tutti vai Luca Luca vai a ballare la corsa la corsa qua la corsa dammi che vuoi? dammi anche è pronto è ma sempre il gno è questo il calcio di tiranno è questo il calcio di tiranno è questo il calcio di tiranno ma guardate è che l'ha fatto prima di me oh è una calcio è una calcio cosa? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 4, 3